Sfida la vice capolista del campionato per l'Aquila che fa visita alla maceratese di Christian Bucchi. Una gara complicata per i Rosso-Blu che però arrivano all'appuntamento rinfrancati nelle gambe e nello spirito dalla successo interno nel derby del Gran Sasso con il Teramo. In terra marchigiana mancherà l'esterno Vittorio Triarico che accusa di nuovo dolore al torace dopo lo scontro di gioco durante il derby di una settimana fa. Oltre a Triarico non sarà della partita Marco Iannascoli ai box per un problema al ginocchio. Per il resto Perrone ha l'imbarazzo della scelta. Ci sarà il terzino Simone Piva al rientro tra i convocati dopo il mese e mezzo di stop causa infortunio anche se dovrebbe partire dalla panchina. Il dilemma è 3-5-2 o 4-3-3? Alla fine visto anche il forfè di Triarico si dovrebbe partire con il 4-3-3. In difesa tornerà Maccarrone centrale al fianco di Cosentini mentre Mediana spazio alla qualità con De Francesco, Manuel Mancini e Milicevic. In attacco Perna con San Domenico e Ceccarelli. Il tecnico dell'Aquila Carlo Perrone vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per strappare punti da macerata. Perrone si va sul campo della vicecapolista però insomma anche con l'entusiasmo dopo il derby non firma per un pareggio. No, credo che qualsiasi sportivo voglia cercare dall'occasione che ha di fare bella figura e di trarre sempre il massimo. Quindi io credo che chiunque faccia questo sport e il calcio pensi sempre di entrare in campo per vincere. Poi se questo non è possibile quello che viene uno accetta. Però è chiaro che non firmerai per un pareggio. Che dicono che si vogliono salvare insomma mi sembra un po' dire delle cose che non sono realistiche. Bisogna fare complimenti alla maceratese, alla società perché hanno messo su una squadra veramente forte. Hanno cambiato poi parecchio rispetto alla squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato. E hanno messo su un organico di primissimo livello. Secondo me è levata la spalla che ha qualcosa in più in termini anche di quantità. Perché la spalla è un parco giocatori dal primo all'ultimo veramente di grande importanza, con grande esperienza. Ma secondo me la maceratese negli 11 soprattutto, ma anche nei 13-14, è una squadra che vale la spalla. Grazie a tutti.